No ragazzi c'è un problema io come cazzo scendo adesso Raga 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 sto per cadere dall'albero Cazzo non riesco a muovermi raga sto per cadere oh cazzo Tu sei bella a me e un po' mi piace un po' te vuoi inventarti da zero Madonna che cazzo è tutta sta luce marca puttana Buonasera a tutti ragazzi vi chiedete questo nuovo video vlog raga Madonna sabato sera le persone normale raga cosa cazzo è che fanno sabato sera Escono con la ragazza con i fidanzatini con gli amici magari anche con i genitori ma escono Invece no il sottoscritto deve andare a registrare una notte in un albero Bene io appena finito di dare il vlog dove eravamo in cava ma non ce la farò Cioè questa challenge raga vi dico subito che fallirò Oddio oh vai stai zitto un attimo maronna Raga io sono folgorato io l'ho sempre detto che sono fuori di testa perché io non sono normale Cioè io vado negli alberi a registrarvi di sabato sera manco fosse lunedì vabbè dici lunedì Sai uno non sa cosa fare va sopra un albero No minchia il sabato sera arca puttana Invitarti da me dopo fare la notte così posso amarti davvero So perfettamente che non si vede niente però mi sto puntando la luce perché se no non vedete Sono fuori in giardino adesso vi faccio vedere vedete raga sono fuori in giardino Qua c'ho la torcia sono esattamente le 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 si mette a fuoco magari Io raga non so come andrà questa cosa Non lo so non sono folgorato raga veramente non mi sono portato l'acqua perché so già che fallirò Quindi non lo so vabbè io spero di non fallire ovviamente Dio va non vedo più niente neanche io vabbè io spero di non fallire però Se non fallisco muoio di sete mi tocca andare a bere nei pozzi d'acqua nei fossi dio va Vedete raga che sono in mezzo alle piante cioè nel senso sono nell'albero Non so che problemi ho ve lo giuro non so che problemi ho la gente sta passando mi sta guardando stramale però Non importa tanto ormai che cazzo di figure facciamo al mondo Cioè vedete raga io i piedi qua cioè non posso farvi vedere di più perché sono incastrato in mezzo agli alberi Cristo E niente raga fa freddo perché è quello ovvio ma le mani fa freddo e hai piedi Del resto non ho freddo E un po' il cazzo no scherzo scherzo Beh Madonna sono pettinato per la prima ora qua con il sfreccio guarda guarda ho pettinato qua Sento tipo non so se sono i toppi non so che cazzo sono ma tipo sento le foglie spostarsi Ecco messaggia nastra madonna Io proverei di andare ancora più in su ma se cado raga mi spacco sia me quindi soldi per l'ospedale Per regolarmi il corpo E sia 300 euro di videocamera No ma io devo io devo io vorrei capire una cosa ma tutte adesso le macchine devono passare ma io non lo so veramente Ok raga proviamo andare ancora più in su Guardate c'ho i tronchi in mezzo degli alberi Cioè se mi si spacco un ramo raga io cado cioè parlo anche al femminile adesso a caso Cioè se cado raga questo qua è tentato omicidio veramente Cioè io Se cado volevo dirvi che io raga non volevo uccidermi forse E c'è 22 E' passato poco E raga mi sto congelando le mani Allora questa non tanto Questa dove ho la pila non me la sto tanto congelando perché La sto muovendo E quest'altra però Questa qui dal tre piedi Porca puttana E' ferma Cioè tipo adesso è ferma Questa della pila si muove Non lo vede Voi non lo vedete ma si muove E quindi raga sull'altra mano mi sto congelando il tutto Cristo dio I miei genitori fanno Ma dove cazzo Eh devo andare a registrare un video mamma una notte in un altro Mia mamma si mette a ridere Madonna Anche mia mamma mi prende per il culo Che sfida di merda Un'altra macchina Allora Ma allora Io mi sto veramente ghiacciando le mani e i piedi Ho cambiato un attimo prospettiva Cioè mi sono girato Così almeno vedete Una visuale diversa Ma raga Non è che posso muovermi Perché se no cado Quindi scusate se sono fermo così a registrare Però se no cado No raga veramente io Allora sono le 11.40 Adesso vi faccio vedere Così almeno non mi dite che sono falso E vi dico la verità Prima sono sceso 10 minuti Perché dovevo sgranchirmi le gambe Cioè cazzo Eh quasi sono due Ora che sono qua quasi I miei genitori Sono ancora svegli Perché come vedete Adesso non ho la torcia Perché se no non si vedrebbe Come vedete Ci sono le luci accese Lì Nella porta E la Ci vede la luce Della Della finestra No raga c'è un problema Io come cazzo Scendo adesso Vi giuro raga Sto morendo di freddo Non ce la faccio più Madonna Ho le mani e le gambe Che mi tremano 11.43 No zioca no No raga Sta incominciando a piovere Non è possibile raga Sta incominciando a piovere Io devo scendere Come Oddio oddio Devo fare tutto di fretta Io odio fare tutto di fretta Raga oddio 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 Non ho mai fatto una roba Con calma in vita mia E devo fare anche qua di fretta C'è neanche un video Con calma posso fare Cristo Allora raga Io adesso vi lascio La registrazione aperta Cioè non stoppo Prima quando sono salito Ho stoppato la registrazione Però adesso ve la lascio accesa Voglio vedere Come scendo con la registrazione accesa Sicuramente raga Registrerò di merda Finché scendo però Devo registrare di merda Perché se registro bene cado Quindi Datemi un attimo Dove cazzo Tengo la pila Raga 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 Sto per cadere tra l'albero Cazzo non riesco più a muovermi Raga sto per cadere Oh cazzo Oddio 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 Ok Sto usando solo una mano Mi devo attaccare dall'albero E scendere Oh Sono sceso Sono sceso raga Non ci credo Raga sono sceso Non ci credo Sono sceso Non ci credo Sono sceso Non ci credo Oddio Madonna raga Non vedo niente Vabbè raga Io concludo il video Spero che vi sia piaciuto Un video diverso dal solito Ci sta È da tanto Io non ve l'ho detto All'inizio del video Però è da tanto Che volevo fare questo video Però non ho mai trovato L'occasione per farlo Ho sempre detto Facciamolo in estate È caldo Magari la challenge Non riesco a farla Dio luce Che mi metto a farla A novembre Dio là Iscrivetevi Commentate Lasciate un like E al prossimo video Non posso fare il gesto Con la mano Perché ho la pila È tutto in mano Cristo Dio Non riesco a farla